che con la riunificazione della Germania, dopo il dissolvimento dell'Unione Sovietica, si sarebbe ultimamente rinforzata e perdonatemi questo paragone che non è mio, ma mi piace molto ricordarlo, il marco stava alla Germania come una bomba atomica nell'armamento nucleare francese e quindi era necessario giungere a un patto, di fatto sono parole, diventerà sotto tutela alla Germania dal punto di vista economico, poi sappiamo purtroppo che con tutta buona volontà non ci siamo riusciti, ma un po' per l'Italia nostra, non per l'Italia Ecco, bravo, su questo sono pienamente d'accordo, perché quando sento parlare di sovranità monetaria, di avere la nostra moneta, il nostro istituto di emissione, io penso sempre che alla fine noi forse sopravvalutiamo l'aspetto della moneta e sottovalutiamo la qualità di chi governa, perché ci sono paesi con sovranità monetaria che vanno benissimo, paesi con sovranità monetaria che vanno malissimo, cioè secondo me dipende molto anche da chi governa e da chi amministra le cose. Ma guardi, le posso dare due numeri molto semplici? Semplici perché non li capiamo, sì sì. No, sono semplici nel senso che sono dei numeri non economici, sono dei numeri purtroppo che sono a nostro sfavore, ma per far capire un po' il nostro non peso nell'ambito dell'Unione Europea. Allora, dal momento in cui proprio è caduto il muro di Berlino, nel novembre dell'89, al momento in cui noi abbiamo avuto materialmente nelle nostre tasche l'euro, che è stato il primo di gennaio del 2002, in Francia ci sono stati due presidenti, per l'appunto Mitterrand e Chirac. In Germania ci sono stati due cancellieri, il grande Kohl e Schröder era anche con, diciamo, ormai tutto il piatto pronto, no? Bene, perché il grosso l'ha fatto poi. In Italia, esattamente nello stesso periodo, abbiamo avuto 17 presidenti del Consiglio e va di bene, va di bene, di tutti i colori possibili, immaginabili, con tutte le coalizioni possibili dei partiti che erano rappresentati nel Parlamento. Viene logico pensare che purtroppo non è che abbiamo capito molto, ovvero non abbiamo avuto una linea come l'hanno avuto gli altri. Ah certo. Questo è il vero problema. Ecco, è l'esempio più evidente secondo me anche della... perché uno dei culti dei sovranisti è quello di poter fare la svalutazione competitiva, no? La lira, adesso noi siamo bloccati dall'euro, però io ricordo bene, perché l'ho vissuta anche in parto, ho lavorato a lungo per la stampa, che era parte del gruppo Fiat, ricordo bene che la Fiat, sì, sopravvisse per un po' col giochetto della svalutazione. Per un po', per moltissimo tempo. Però alla fine fallì, alla fine fallì perché faceva delle macchine che erano più scadenti delle altre, quindi non bastava farle pagare di meno col giochetto della lira. Sì, però guardi, gira, gira, che questo è questo aneddoto, non so se è vero o meno, però è abbastanza, diciamo, realistico. Si dice che fin dagli anni Sessanta, quando Valletta apriva, Valletta era l'ex, il grande storico presidente della Fiat, lo diciamo per i nostri amici più giovani, quando apriva la finestra del suo studio e vedeva troppe macchine in deposito, partiva una telefonata alla Banca d'Italia, partiva e dopo si sistemava tutto, cioè io che devo fare? Devo vendere le macchine. D'altronde vi ricordo che, ben dopo Valletta è evidente, perché stiamo parlando anni Sessanta, ma anche nel 1990 la macchina più venduta d'Europa si chiamava Punto, si chiamava. Quindi la 1 e le prime Punto. Quindi indubbiamente lei ha ragione nel dire, perché in realtà non dobbiamo solamente affidarci alla svalutazione operativa. Però è anche vero che con questo sistema attuale dell'Euro noi abbiamo consentito alla Germania anche di non rivalutare, quindi è stata una doppia negatività. Noi non potete svalutare e loro non potrebbero. Tra l'altro, guardi, c'è un rapporto che è uscito qualche mese fa in cui è stato calcolato che se effettivamente la Germania oggi avesse una sua valuta, naturalmente la chiamerebbero di nuovo Marco, sarebbe rispetto ad altre valute di riferimento, in primis il dollaro, svalutata dal 10 al 20%. E qui capisce bene il tipo. Io vorrei dire questo, perché non cerchiamo di attivare dei meccanismi all'interno dell'Euro per poter fare in modo che ci siano dei trasferimenti. D'altronde, mi scusi, questo surplus immenso, tre volte superiore a quello della Cina, evidentemente ha origine proprio da questo problema che l'ho detto. Senta, Professor Rinaldi, arrivando a quest'anno all'attualità economica di questa manovra, lei giudica in positivo questa forzatura che sta facendo questo governo col portare il deficit al 2,4, esponendosi quindi a queste lettere della Commissione Europea. Guardi, se ero convinto prima, dopo i dati dell'assegnazione della nostra economia, ancora di più, perché se vogliamo rinanciare l'economia è necessario fare una manovra naturalmente in deficit, come è stato consentito nei precedenti anni, facendo benissimo, non è una critica, ad altri paesi. Cioè, altri paesi sono riusciti a uscire dalla crisi e avere dei saggi di crescita positivi, superiori a quelli italiani, proprio perché ci sono abbalzi di deficit più elevati. Certo, eh professore, non devo non devo dirlo io, mi fa ridere dirlo a un a un insegnante di economia. C'è questo piccolo dettaglio però, che per fare una manovra ancora in più in deficit, che potrebbe anche essere corretto, eh ma bisogna trovare gente che ti dà i soldi, eh non è che lo puoi fare, eh lì e lì c'è il problema, ecco poi che aumenta, che aumenta il prezzo, aumenta il prezzo, quello che noi chiamiamo lo spread, che è una parola magica, in realtà aumenta il costo. Però, eh lei, lei ha ragione dal punto di vista plastico, cioè vedendo, però se da vedere tutte le aste, ma non solo le attuali, ma anche le precedenti. Ma prezzi sempre più alti, ma prezzi sempre più alti, per forza, al tre e mezzo per cento, certo che li vende. Ma scusi, le chiedo scusa. Eh c'è, c'è un sistema proprio di asta, non del tutto, diciamo, eh premiante, per il quale vengono penalizzate le, le aste. E risale a moltissimi anni fa, addirittura ad 81, per il quale, ed è questo un caso veramente incredibile, per il quale, nonostante ci siano delle offerte da parte di investitori, sia nazionali che esteri, eh per quanto riguarda l'acquisto dei titoli, superiori, ma molto superiori all'offerta che invece dà il tesoro, cioè nonostante i titoli, il rendimento sale. Lo sa? Cioè, addirittura la cosiddetta cover ratio, così nel gergo tecnico, è addirittura del 60-70% di più, cioè ci sono eh richieste di acquisto, 60-70% di più rispetto all'offerta del tesoro. Ma a che tassi? A che tassi? A che tassi? Va bene, però io non vorrei andare, scusate Zucconi e Rinaldo, troppo sul tecnico, però è difficile da seguire. Setta, e un'ultima domanda, la parte mia, professor Rinaldi, che ha anche lavorato nel corso degli anni anche al servizio borsa della Consob, che è l'autorità di vigilanza su Piazza Affari, si parla di lei di come un possibile, manca un presidente alla Consob in questo momento, le hanno fatto un'offerta per fare il presidente? Guardi, guardi, l'ho letto la prima volta sul sole 24 ore e poi è stato riportato da altri giornali, fra i quali anche Milano Finanza. Quindi l'ho letto come voi sui giornali. Ok, quindi non ha avuto alcuna comunicazione diciamo ufficiale. Guardi, le posso dire come battuta? Credo che nessuno abbia ricevuto nessun tipo di comunicazione, altrimenti già ci sarebbe il presidente della Conso. No, certo, però sarebbe un lavoro che le piacerebbe fare? Beh, forse sì, diciamo, è prestigioso. Guardi, io sono una persona che mi considero un po' delle istituzioni perché sono stato moltissimi anni a Leni, come direttore generale della capogruppo finanziaria di Leni, ho portato in quotazione praticamente quasi tutti i titoli della scuderia Eni. Molto probabilmente proprio per questo qualcuno ha pensato, ha tirato fuori il mio curriculum, senza interpellarmi naturalmente. Quindi mi reputo una persona al servizio delle istituzioni. Se mi dicono di andare a fare la guardia al fusto di benzina. Ci va, la formosilo di Eni, diciamo così. Va bene. Ultima domanda, Vittorio. Ultimissima domanda. Se lei fosse un signore con qualche soldo, li investirebbe nella borsa italiana oggi? Ah beh, guardi, le dico sinceramente, lei tocca un tasto, essendo un nato in borsa con i pantaloni corti, perché il fratello mio padre era un commissionario di borsa e praticamente, si può dire, facevo seca a scuola, si può dire? Sì, si può dire, si può dire. Perché avevo seca a scuola per andare alla borsa di Roma, si figurì un po'. Ah beh. Dico sinceramente che alcune cose sono estremamente interessanti e naturalmente non bisogna comprare su prezzo che sale, ma con prezzo che scende, qualche cosa buona c'è, credo in molte industrie italiane e quindi perché no? Le comprerete come? Eh certo, va bene. Va bene, un messaggio positivo. Grazie Antonio Merinati, la sovranità appartiene al popolo, allo sprezzo di Aliberti. Grazie alla prossima. Speriamo al popolo. Speriamo al popolo, certo. Il popolo qualche volta si spara dai piedi. Va beh, grazie. Grazie. Il popolo vince sempre. Vince sempre. Grazie Grazie a tutti.